Buongiorno a tutti, la notizia del giorno è questa qua, anzi l'assurdità del giorno, guardate. Ma ci rendiamo conto che deve perdere la vita un bambino di 5 anni, con annessa sorella e madre in ospedale in condizioni gravissime, perché due cretini, due cretini, che dico anche il nome di The Borderline, che hanno 600.000 follower, pur di accaparrarsi fan, pur di accaparrarsi seguace, pur di fare i fighi dei poveri, su una Lamborghini sfrecciano come dei pazzi scatenati, facendo una storia e dei video, non curandosi di altre macchine, di altri passanti. Ma ci stiamo rendendo conto, ma la cosa assurda, analizzando la notizia, loro facevano questa storia perché hanno detto se arriviamo a 100.000 like, signori mei questo è il problema della vita di oggi, se arriviamo a 100.000 like, passiamo 50 ore in macchina sulla Lamborghini, ammazza! Voi immaginate la cultura e l'intelligenza di questi ragazzi qua, perché adesso con questo video non arriviamo a 300.000 like e facciamo passare 50 ore con il padre di quel bambino, questi due ragazzi? Faccio io questo appello, grazie. Faccio io questo appello, grazie.